Cambiano le regole per alcune attività della ristorazione. Dopo il nuovo DPCM, i bar senza cucina e i locali che somministrano bevande potranno effettuare l'asporto solo fino alle 18. L'asporto sarà possibile fino alle 22 per bar con cucine e ristoranti. Tuttavia il Governo, per evitare assembramenti, ha previsto anche in questi casi il divieto di consumazione sul posto o nelle adiecenze. Gli operatori del settore, essendo la Calabria in zona arancione, non potranno comunque servire al tavolo fino alle 18, come avviene nelle aree gialle. Restano senza limitazioni di orario le consegne a domicilio.